Centinaia di lavoratori dall'appalto ILVA, insieme ai rappresentanti sindacali e ai dipendenti diretti del siderurgico di Taranto, che hanno voluto solidarizzare con loro, si sono radunati in assemblea questa mattina dalle 7 alle 9 davanti ai cancelli della portineria e imprese dello stabilimento. Poi si sono diretti in corteo verso il palazzo del governo di Taranto per un sit-in di proteste per chiedere un incontro al prefetto Umberto Guidato. Durante il tragitto, per agevolare il passaggio del serpentone di operai, è stata interdetta la circolazione sulla strada per Statte, poi a Rione Tamburi, infine nella città vecchia e al ponte Girevole. Quando è arrivato a Piazza Castello, al corteo si è unito il sindaco Ipazio Stefano con alcuni esponenti della giunta e consiglieri comunali. Sono qui per lottare al fianco dei lavoratori, ha dichiarato il primo cittadino che due giorni fa ha scritto al Premier Renzi chiedendo garanzie per le 200 imprese e i 4.000 operai dell'indotto ILVA, un intero sistema che lamenta ritardi nei pagamenti da parte dell'ILVA e teme che i crediti, 210 milioni di euro in totale, possano essere azzerati con l'amministrazione straordinaria annunciata ad ORAS. Dopo la manifestazione a Roma di due giorni fa e l'incontro deludente con il Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi, i titolari delle aziende appaltatrici hanno revocato il provvedimento di messa in libertà dei lavoratori e avviato la procedura della cassa integrazione straordinaria. Ma la protesta prosegue perché la crisi di liquidità sta avendo effetti devastanti per operai e imprese. Anche gli autotrasportatori da ieri hanno sospeso i servizi e proclamato lo stato di agitazione. Il presidente di Confindustria Taranto, Vincenzo Cesareo, ha dichiarato che appena si è diffusa la notizia del passaggio dell'ILVA in amministrazione straordinaria, le banche stanno procedendo a mettere a rientro i nostri associati. Questo significa che gli istituti di credito stanno svuotando i conti correnti delle aziende con cui hanno aperto un fido.